salve e ben ritrovati a tutti ci ritagliamo oggi qualche minuto per un breve approfondimento sui contenuti del numero 4 della rivista italiana della saldatura che attualmente in fase di stampa quindi di prossima diffusione a tutti gli interessati in questo numero abbiamo una direi notevole varietà di contenuti buona parte dei quali inediti ma vediamo rapidamente appunto di toccarne gli aspetti fondamentali la copertina in primo luogo riprende i contenuti di uno appunto degli articoli in particolare ritrae la nuova nuovo suv maserati levante il quale a sua volta è oggetto di una memoria presentata al recente evento fill world 2 a genova appunto memoria redatta a cura di proma spa e roboteco srl con materia di tecnologia della saldatura e in particolare di impiego di isole diciamo così automatizzate per la saldatura a filo continuo in protezione gassosa di lamiere zincate quindi il contesto automobilistico nel senso più stretto del termine ma veniamo al resto dei contenuti il primo andando appunto in ordine di stampa nel numero della rivista riguarda una presentazione curata dei colleghi di is service in materia di risk based inspection di strutture civili quindi un argomento che sta trovando crescente interesse diciamo così sulla scorta di quanto avviene ormai da diverso tempo nel campo delle apparecchiature in pressione argomento questo a sua volta ormai stabilmente regolamentato da standard tecnici internazionali questo contributo è stato presentato lo scorso anno alle giornate nazionali di saldatura ottava edizione il secondo contributo appunto in ordine di stampa è un contributo invece inedito e riguarda una proposta fatta da Jacopo Basoni ed altri autori in materia di comparazione dei metodi per la determinazione quantitativa del percentuale di ferite delta negli acciai austeno ferritici ecco come giustamente ricorda l'autore per quanto possa apparire un argomento notorio nelle sue varie accezioni e sfumature non è raro che capiti che al di là dei contenuti delle norme metodologiche vi siano ulteriori prescrizioni contrattuali che in qualche maniera complicano e rendono più complesso affrontare queste determinazioni per i laboratori di riferimento quindi credo un contributo interessante molto operativo per chi si è coinvolto in queste problematiche il terzo contributo della rivista proviene viceversa da un costruttore di apparecchiature materiali da porto che è ESAB in particolare ed è a mio avviso di particolare interesse perché affronta una problematica estremamente operativa ovvero sia la manutenzione di rotaie di veicoli di metropolitane leggeri in ambito cittadino a seguito delle diciamo così inevitabili problematiche di usura nei tratti curveline in particolare al di là della metallurgia complessa di questi acciai o meglio di non banale saldabilità un problema affrontato dagli autori è stata la necessità di non surriscaldare i materiali impiegati per l'isolamento acustico delle rotaie stesse e quindi in estrema sostanza conciliare le esigenze di prediscaldo con quelle di integrità dei materiali usati per gli isolamenti stessi. Per quanto riguarda il contributo di Proma e Roboteco abbiamo già fatto qualche cenno poco fa per cui possiamo passare all'argomento dedicato alla fabbricazione di strutture saldate argomento affrontato in questo caso da Cimolai S.P.A. e presentato alle recenti GNS8 durante appunto la presentazione delle caratteristiche principali del nuovo World Trade Center site il Transportation Hub la cui appunto costruzione è stata curata dal costruttore italiano in un sito tra l'altro di particolare rilevanza storica e sociale nel contesto americano. Proseguiamo con un articolo che abbiamo viceversa estrapolato dalla ricca documentazione recente dell'IIW un articolo, dicevo, che si occupa della caratterizzazione di tensioni residui su tubi salati testa a testa in acciaio feritico perlitico. Argomento a mio avviso particolarmente interessante per quanto apparentemente non nuovo abbiamo affrontato molto rigore dal punto di vista sperimentale e una considerazione specifica per le modalità di taglio dei provini interessate alla caratterizzazione stessa. Abbiamo per finire un contributo dedicato alle prove non destruttive una proposta, diciamo così, di un costruttore cardinalese in particolare per la caratterizzazione mediante immagini di risultati di controlli ultrasonori avanzati di saldature testa a testa di sistemi di tubazione. Un ulteriore, direi, avanzamento di queste recenti, moderne tecniche che ormai hanno trovato una consolidata applicazione anche in questo ambito. Speriamo quindi che il numero sia di vostro interesse e ci diamo appuntamento per il prossimo numero 5. Grazie a tutti.